Principessa, io sono sicuro che voi questa cosa l'avete. Ah, ma è vero! Papà mi ha detto che dovrò dargli una cosa. Bravissima. Che è una cosa che dopo sposati non si può più avere. Brava! Ah, vero. E se permettete? Permettiamo. La vado a prendere. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.